Propongo qualcosa di spiccante, lui mi risponde Fammi lo spaghetti a tenne Quasi quasi io mi infido un baby doll che mi rende ancora più magra Uh 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 Io penso a me stasera non mi salva manco un chilo di viagra Allora salto addosso al primo uomo che mi trovo sotto il tiro Sì! Aspetta che telefono agli amici, non vi fate trovare il giro Lui è geloso però non si pronuncia Io ho paura di beccarmi la denuncia Grazie, grazie!